Maria Antonietta, la regina vittima della rivoluzione francese, Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena, nota semplicemente come Maria Antonietta, è stata l'ultima regina di Francia, sposa di Luigi XVI. Nata a Vienna nel 1755, a soli 15 anni fu data in sposa al Delfino di Francia, che sarebbe diventato re nel 1774. La sua vita a corte fu segnata da scandali e pettegolezzi, che la resero una figura molto impopolare. Fu accusata di essere frivola e dissipata, di spendere troppo denaro in abiti e gioielli, e di avere relazioni extraconiugali. In realtà, Maria Antonietta era una donna intelligente e sensibile, che si dedicò al suo ruolo di regina con impegno. Cercò di aiutare i poveri e i bisognosi, e si interessò alla cultura e all'arte. Tuttavia, la sua popolarità non migliorò mai, e la rivoluzione francese la travolse. Fu arrestata nel 1792 e processata per tradimento. Fu condannata a morte e ghigliottinata nel 1793, all'età di soli 37 anni. L'infanzia a Vienna, Maria Antonietta nacque il 2 novembre 1755 a Vienna, capitale dell'impero austriaco. Era la penultima dei sedici figli di Maria Teresa d'Austria e di Francesco Stefano di Lorena. Maria Antonietta ricevette un'educazione raffinata, ma anche molto rigida. La sua infanzia fu segnata dalla morte prematura di molti dei suoi fratelli e sorelle, e dalla guerra dei sette anni, che coinvolse l'Austria e la Francia. Il matrimonio con Luigi XVI. Nel 1770, Maria Antonietta fu promessa in sposa al delfino di Francia, Luigi Augusto, figlio del re Luigi XV. Il matrimonio fu celebrato a Versailles il 16 maggio 1770. Maria Antonietta aveva solo 15 anni e Luigi Augusto XVI. I due erano molto diversi. Maria Antonietta era vivace e impulsiva, mentre Luigi Augusto era timido e introverso. Il loro matrimonio fu inizialmente difficile, ma col tempo i due riuscirono a trovare un equilibrio. Maria Antonietta si dedicò al suo ruolo di regina, mentre Luigi Augusto si interessò alla politica e alla cultura. La vita a corte. La vita a corte a Versailles era molto formale e rigida. Maria Antonietta non si sentiva a suo agio in questo ambiente, e spesso si lamentava della sua vita. Fu accusata di essere frivola e dissipata, di spendere troppo denaro in abiti e gioielli, e di avere relazioni extraconiugali. In realtà, Maria Antonietta era una donna intelligente e sensibile, che si dedicò al suo ruolo di regina con impegno. Cercò di aiutare i poveri e i bisognosi, e si interessò alla cultura e all'arte. La rivoluzione francese. Nel 1789 scoppiò la rivoluzione francese. La monarchia fu abolita e Luigi XVI e Maria Antonietta furono arrestati. Maria Antonietta fu imprigionata nella torre del Tempio, assieme ai suoi due figli, Maria Teresa e Luigi Carlo. Nel 1792, Luigi XVI fu condannato a morte e ghigliottinato. Maria Antonietta rimase rinchiusa nella torre del Tempio, in attesa del suo processo. Il processo e la condanna. Il processo a Maria Antonietta iniziò nel settembre 1793. Fu accusata di tradimento, corruzione e immoralità. Il processo fu una farsa. E Maria Antonietta fu condannata a morte. La sua esecuzione fu fissata per il 16 ottobre 1793. Maria Antonietta fu ghigliottinata all'età di soli 37 anni. La figura di Maria Antonietta. Maria Antonietta è una figura controversa. È stata spesso dipinta come una donna frivola e dissipata, che fu la causa della rivoluzione francese. In realtà, Maria Antonietta era una donna intelligente e sensibile, che si dedicò al suo ruolo di regina con impegno. Tuttavia, la sua popolarità non migliorò mai, e la rivoluzione francese la travolse. La sua morte fu un evento tragico, che segnò la fine della monarchia in Francia.